buongiorno buon natale ecco il mona sono il mona ma lascia perdere abbiamo John Mickey ci dica John Mickey i programmi di questa giornata poi come si svolge la giornata io penso che si svolgerà in meglio quella si svolgerà ma come si svolgerà abbiamo la dottoressa in lingue come ti vergogni? vergogno io ma non è vero sono completamente fatta abbiamo la sorella della dottoressa in lingue oh ma dov'è la mia bolsina? la sua bolsina dov'è? vedi ma non è che dobbiamo prendere i capelli poi c'è la mamma della dottoressa in lingue io no lì 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 oh là là devo notare gli orecchini con la stella di Davide di Davide voi No, 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 no!